Sì, da costa di giornate di maltempo importante in Brianza, hanno creato tanti disagi. Come siete intervenuti come amministrazione qui su Monza e in particolare su L'Ambro? Grazie al cielo, con una protezione civile allenata ormai a lavorare non solo perché fa tantissime attività di esercitazione ma perché fa molte attività sul campo. La presenza costante della protezione civile e della polizia locale ha consentito un monitoraggio continuo. Da questo punto di vista, visto che siamo ormai in un tempo che non sa più dire grazia, io da amministratore dico grazie, dico grazie al Parco Valle L'Ambro, dico grazie alla protezione civile e alla polizia locale, grazie alle comunità di Pusiano e di Inverigo perché grazie ai due invasi, invasi da milioni di metri cubi d'acqua, solo quello di Inverigo vale 990.000 metri cubi. Noi abbiamo potuto reggere una forza, una piena che se fossimo stati nel 2002 probabilmente avrebbe messo i piedi a bagno, con i piedi a bagno i monzesi. Abbiamo avuto certo un Lambro che è andato a prendersi i suoi spazi nel Parco di Monza, leggermente allargandosi appena appena vicino alle grazie, ma non facendo praticamente danni. Abbiamo invece avuto un po' di problemi alla roggia lupa, quindi nella zona vicinissima alla Cascinazza, zona via Rosmini, via Lippi, via Rosmini, e lì purtroppo da un lato la roggia lupa fa il suo mestiere, quando l'acqua è troppa tende a uscire in un'area che è tendenzialmente golenale. Dall'altra parte però noi stiamo anche pagando l'inciviltà di molte persone che utilizzano le aree meno visibili della città molto spesso per continui scarichi, che nel tempo diventano degli autentici blocchi per l'acqua. Avevamo fatto già alcuni interventi dieci giorni fa e in questi giorni la roggia lupa non ha tenuto. È evidente, Sindaco, che questi fenomeni meteorologici, una volta più rari, oggi sono molto frequenti. Come amministrazione, come state pensando di intervenire nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Allora, certamente il tema delle manutenzioni. Ad esempio, noi nell'arco degli ultimi otto mesi due volte siamo scesi nell'alveo dei nostri fiumi, in alcuni casi facendo anche quello che avrebbe dovuto fare AIPO, l'autorità per il Po, che però non sempre riesce a intervenire sull'Ambro. Un presidio e un monitoraggio continuo del territorio, l'acquisizione di strumenti necessari, nel senso che in alcuni casi per fare interventi diretti occorre avere gli strumenti giusti. Con Protezione Civile noi ogni anno investiamo su materiali nuovi, mezzi, materiali nuovi, e continuiamo a fare questo. È un profondo accordo, un grande accordo fra istituzioni. Poi direi che forse dobbiamo avere il coraggio, come abbiamo fatto per la Cascinazza, di dire che in alcuni luoghi, ad esempio, non si deve intervenire, non si deve costruire. Sequestrati 200.000 giocattoli e accessori per bambini non conformi, stoccati nei magazzini di un Max Emporio di Lissone. Alla vigilia di Halloween e con il Natale alle porte, mentre cresce la vendita di oggetti a tema, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza ha intensificato i controlli per prevenire la diffusione di materiali pericolosi e contraffatti. Nell'ambito di queste azioni sono stati rinvenuti oltre 70.000 oggetti, senza indicazioni dell'importatore, del distributore, del luogo di produzione, del contenuto dei materiali e delle modalità di smaltimento. Quindi nessuna delle caratteristiche tecniche che invece erano riportate sulla confezione. Le fiamme gialle nello stesso Emporio hanno individuato altri 134.000 articoli, natalizi, materiali di cancelleria, prodotti per la casa e per la cura della persona e degli animali, tutti non conformi al codice del consumo. Disposto dunque sequestro in via amministrativa, segnalato alla Camera di Commercio di Milano Monza Lodi il titolare del negozio e in arrivo una sanzione a suo carico. Lo stock rinvenuto a Lissone, riferisce la Guardia di Finanza, se è immesso sul mercato avrebbe costituito un concreto pericolo per la salute e l'incolumità, soprattutto dei ragazzi. I nostri reparti proseguono con le attività di controllo per garantire la protezione dei consumatori, ma anche un mercato competitivo, ovvero gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. Brianza di nuovo sott'acqua, la grande quantità di pioggia caduta nella notte e nella mattinata con picchi fino a 55 mm in 24 ore ha causato ancora una volta allagamenti ed esondazioni. Scene in tempo eccezionali, ma che oggi stanno diventando triste normalità. Un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco, le zone più colpite riguardano le aree di Meda, in cui è esondato il fiume Tarò, dove è stata inviata un'unità di crisi locale, poi di Carate, Giussano, Seregno e anche parte di Varedo e Desio. In alcune strade l'acqua ha raggiunto il metro d'altezza. Traffico a lungo paralizzato sulla SS36 a causa di allagamenti e della caduta di alberi sulla carreggiata. Disagi anche a Monza, pieno d'acqua, il sottopasso prima dell'ingresso della tangenziale nord, esondato il lambro all'interno del parco, al mulino del cantone. In via Lippi e fu l'uscita dalla Roggia Lupa, prima dell'alba, Seregno e rimasta al buio, senza corrente, per circa un'ora e mezza, chiusi alcuni sottopassi. Serve una task force per interventi rapidi in caso di rischio allagamenti. La proposta di Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque, che negli ultimi anni ha investito molto insieme ai comuni per mitigare il pericolo di inondazioni. La proposta è quella di creare insieme a vari attori, a cominciare dalla protezione civile, i comuni, le aziende che svolgono i servizi sul territorio, una task force che permetta di fare interventi quando abbiamo gli allerta meteo, nel corso delle perturbazioni e soprattutto dopo perché ha perturbazione e segue altra perturbazione. Noi sappiamo che queste piogge così copiose sono anticipate o seguite da forte vento, il forte vento fa cadere le foglie, le foglie ostruiscono caditoie e tombini e quando questi sono ostruiti non sono ricettivi. Quindi l'idea è quella di avere un presidio anche delle strade per pulirle e rendere meno evidente il fatto che l'acqua corre sulle strade e poi arriva a danneggiare case, cantine, box e i nostri centri in generale. Gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno intercettato ad aggrate ebrianza un ingente carico di cocaina, 20 chili di droga sequestrati, due trafficanti finiti in manette. Nello specifico i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza, seguendo a ritroso la filiera dello spaccio di cocaina nel circondario di Busto, sono arrivati fino a quello che ritenevano un grossista di polvere bianca, un marocchino di 44 anni residente nell'Interland milanese. Sono derivati accertamenti e indagini conclusi con l'intervento ad aggrate. Gli agenti appostati nei pressi di un parcheggio nella zona industriale del comune Brianzolo hanno assistito discretamente all'incontro tra il marocchino e l'autista di un'auto articolato con targa tedesca, culminato nella consegna di un sacco al nord africano. Un breve pedinamento e i due, che si erano separati, sono stati bloccati. Il marocchino aveva in auto in un nascondivio artigianalmente ricavato dietro a un sedile e aperto con un sofisticato dispositivo. Otto blocchi di cocaina, altri 11 gli aveva l'autista del camion, un tedesco di 49 anni, nell'abitacolo del mezzo. In tutto circa 20 chili di droga per un valore all'ingrosso di circa 800 mila euro. I due sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. I menu e il servizio delle mense scolastiche del comune di Monza sono tra i più dinamici e di qualità a livello nazionale. A evidenziarlo è stata l'indagine annuale dell'ente indipendente Food Insider che mostra anche il miglioramento del capoluogo Brianzolo balzato dal 29esimo posto in classifica dello scorso anno all'attuale 13esimo posto insieme ad altri comuni italiani come Mantua, Macerata, Pordenone e Verona. Il rating si concentra sullo stato delle mense, concentrandosi in particolare sulla qualità degli scarti, le buone pratiche e l'applicazione dei criteri ambientali minimi. Diversi gli elementi che hanno deciso la crescita delle mense monzesi che forniscono 6.000 pasti ogni giorno. Dall'adeguamento dei menu alle linee guida ATS Monza e Brianza, al monitoraggio degli scarti, dall'ampliamento dell'offerta di progetti di educazione alimentare e donazione delle eccedenze alimentari all'evento dello scorso maggio di presentazione al pubblico del servizio ristorazione in Piazza Roma. E se la crescita dei costi delle derrate alimentari ha costretto diverse amministrazioni comunali in tutta Italia ad aumentare le tariffe delle mense, il Comune di Monza ha deciso di farsi carico delle nuove spese. La qualità delle mense è una componente fondamentale dell'offerta scolastica della città, afferma il sindaco di Monza Paolo Pilotto. Per questo, anche a fronte dell'aumento dei costi, come amministrazione ci siamo impegnati a non far gravare sulle famiglie il rincaro, anche se molti cittadini non si sono accorti che il Comune si è caricato per il 2023 di tutto l'aumento derivante dalla salita dell'inflazione. Il risultato certificato da Food Insider è un grande riconoscimento del lavoro svolto dal personale comunale. Quattro anni di percorso didattico, 50% delle lezioni in lingua inglese è una formazione che unisce scienze, tecnologie e materie umanistiche con un occhio all'innovazione e al mondo del lavoro. Per il prossimo anno scolastico, il Collegio Villoresi di Monza ha lanciato in collaborazione con Asso Lombarda il primo liceo STEM della Lombardia, il quarto in tutta Italia. Un'offerta formativa interdisciplinare che integra materie tradizionali con metodi maggiormente pratici e innovativi e con vocazione internazionale. Le innovazioni didattiche che i docenti sperimentano, imparano e trovano efficaci nei percorsi quadriennali poi contaminano sicuramente anche i nostri percorsi quadriennali. Quindi per noi è un punto fondamentale nell'innovazione della didattica, nel proporre ai ragazzi delle metodologie didattiche, dei contenuti, delle modalità di imparare, di stare a scuola e di apprendere che li preparino a rispondere alle sfide del domani e le sfide del futuro. Al percorso si accede tramite test di ammissione a numero chiuso e con una buona conoscenza dell'inglese già in partenza, mentre sono previste borse di studio per gli studenti più meritevoli. Obiettivo? Formare figure professionali con le competenze più ricercate dalle imprese. Appoggiandoci a delle esperienze già realizzate in altre regioni e con l'ausilio di altre associazioni industriali, abbiamo voluto creare anche qui a Monza questo liceo quadriennale con la possibilità di esperienze nelle aziende sia attraverso teamwork che attraverso degli stage e questo permetterà a una scuola del genere di andare alla stessa velocità in cui stanno andando le aziende. Soddisfatti anche gli studenti degli altri licei stimi italiani a partire da quello di Rovereto. È stata un'esperienza entusiasmante, mi ha dato molto, ci vuole molta forza di volontà, carisma, voglia di fare, bisogna accettare le challenge e vedere la testa alta. Brianzacqui ha avviato il risanamento senza scavi del collettore fognario che da Sovico trasporta le acque refule fino al depuratore di San Rocco, a Monza, 7,6 chilometri di grosse tubazioni che corrono sotto l'SP6 Monza-Carate-Brianza per poi innestarsi nel parco di Monza. Un intervento record da oltre 16 milioni, due anni di progettazione e altrettanti di esecuzione e il coinvolgimento di cinque comuni. Andiamo a risanare una condotta attraverso tecnologie senza scavare, quindi con tutti i minori disagi che normalmente conseguono in un'attività ordinaria, quindi riduzione del traffico, riduzione di tutti i vincoli con i sottoservizi esistenti e riduzione dell'impatto ambientale attraverso ad esempio minori emissioni di CO2. L'intervento è lungo circa 7,6 chilometri e attraversa cinque comuni, quindi partiamo dal comune di Sovico, Macerio, Biassono, Vedano e Monza. È un collettore tra i più importanti della provincia di Monza-Ebrianza che attraversa per oltre il 50% la strada provinciale SP6 tra le arterie più critiche della provincia per poi confluire all'interno del parco di Monza per circa il 30% dell'estensione, quindi anche con una valenza molto importante dal punto di vista ambientale per poi arrivare al nostro impianto di depurazione di Monza. La scelta di utilizzare la tecnologia NoDig al posto del tradizionale sistema dello scavo a cielo aperto consente di risanare le vecchie condotte dall'interno. Possiamo assimilarlo alla medicina non invasiva, quindi sono interventi minimali che evitano o riducono al minimo gli scavi tradizionali e servono per posare nuove reti di sottoservizi, siano esseri telecomunicazioni, gas, acqua, energia oppure per risanare quelle esistenti nello specifico reti dell'acqua, del gas o le reti fognarie, appunto, intervenendo senza rompere la superficie. Incastrate dalle fototrappole due persone che stavano abbandonando i rifiuti di notte a Cesano Maderno, ma il buio non li ha salvati. Il sistema innovativo di telecamere nascosta ha consentito di analizzare i filmati in tempi rapidi e di risalire ai colpevoli tramite le targhe dei veicoli. I due non residenti a Cesano sono stati denunciati e ora dovranno rispondere di illecito penale con un'ammenda che va da un minimo di 1000 euro a un massimo di 20.000 se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Grazie alla presenza di telecamere nascoste, al lavoro congiunto della polizia locale e dell'assessorato all'ambiente, ha commentato il sindaco di Cesano Maderno, Gian Piero Bocca, sul territorio comunale sono stati intercettati soggetti responsabili di un comportamento deleterio per l'ambiente e per tutta la comunità. La lotta al degrado all'abbandono dei rifiuti, priorità per l'amministrazione comunale, proseguirà e si rafforzerà. Questa pratica incivile ha ripreso il primo cittadino a ricadute pesanti sul decoro di strade e aree verdi, ma anche sui bilanci pubblici per i costi straordinari delle attività necessarie alla loro rimozione. L'attività delle fototrappole continua e sarà ulteriormente implementata, conclude, per perseguire e sanzionare pesantemente gli incivili che sporcano la città. È un tema di legalità e di rispetto del territorio al quale teniamo molto. Nuova sentenza sulla vicenda dei licenziamenti alla Giannetti Ruote, l'azienda che decisa la chiusura dell'impianto di Ceriano Laghetto, nel luglio 2021 mise la porta ai dipendenti in servizio via mail. Dopo il pronunciamento dello scorso febbraio, il Tribunale di Monza ha dato di nuovo ragione ad alcuni dei 152 dipendenti rimasti senza lavoro. Con due sentenze disgiunte, il Tribunale ha dichiarato illegittimi licenziamenti che ha condannato l'azienda specializzata nella produzione di ruote per auto e moto al reintegro di alcuni lavoratori nel sito di Carpenedolo in provincia di Brescia e a pagare risarcimento ad altri pari a 15 mensilità. Soddisfazione da parte della CGL Monza che ha assistito alcuni lavoratori in questa vicenda. dal Tribunale ha riconosciuto le nostre ragioni ripagando i lavoratori della Giannetti da una pesante ingiustizia, dichiara Roberto Scisca, avvocato della FIOMCGL Brianza. Questa era una sentenza che noi stavamo aspettando con particolare interesse, aggiunge Stefano Bucchioni della FIOMCGL Brianza, perché dopo le sentenze che hanno confermato la condotta antisindacale da parte della Giannetti Fad Wills sulla procedura di licenziamento e la chiusura del sito di Ceriano Laghetto, da ultimo, quella della Corte d'Appello di Milano, arriva finalmente l'esito alle prime cause individuali dei lavoratori licenziati. La sentenza da ragione loro e condanna la Giannetti al risarcimento. Quella dalla Giannetti Ruote, aggiunge Piero Chiuto, segretario della FIOMCGL Brianza, è una vicenda che richiama il tema delle politiche industriali del nostro paese e della tenuta occupazionale. Il tessuto industriale del territorio brianzolo non può essere deturpato dalle scorribande di fondi di investimento e speculatori che si vogliono mostrare imprenditori. Con tutte le sentenze che i vari tribunali hanno emesso, conclude Walter Pavvarini, segretario generale della CGL Monza Brianza, si rende un poco di giustizia ai lavoratori e al sindacato che è stato con loro a lottare. Dopo le tappe in Brianza, l'urna con le spoglie di San Gerardo è stata trasportata per la prima volta nell'ospedale che prende il nome del compatrono di Monza. Sabato mattina, un momento solenne e di preghiera davanti alla palazzina accoglienza dell'ospedale San Gerardo, alla presenza dei vertici della fondazione IRCS San Gerardo e rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose, oltre a medici, infermieri e fedeli, per poi trasportare l'urna nella chiesa dell'ospedale per la benedizione. Spoglie rimaste in esposizione per la preghiera per tutto il weekend, prima di nuove indagini scientifiche e cliniche e il rientro alla parrocchia San Gerardo. Abbiamo voluto che per festeggiare alcune date significative non solo in Monza, ma anche in altre parrocchie della diocesi e fuori diocesi il santo potesse essere visto da chi, per esempio, non può venire in Monza come malati, anziani, sembrava una cosa bella e dignitosa far finire la sua traslazione nel luogo dove si curano i malati e dove c'è ancora la sua presenza, non solo nel nome, ma spero tanto anche nella cura dei malati stessi. Un appuntamento inserito nel programma dell'anno gerardiano a pochi mesi dal 19 febbraio quando scatteranno gli 850 anni dall'apertura proprio dell'ospedale San Gerardo dedicato alla cura dei poveri e bisognosi e una delle strutture in funzione più antiche d'Italia. Siamo nati il primo gennaio per la prima volta il santo arriva nel nostro ospedale e in sua eminenza il Cardinal Scola capita per salutare il santo. Il 19 febbraio nel 2024 festeggeremo gli 850 anni della convenzione tra Gerardo dei Tintori borghese laico converso la chiesa l'arciprete e i consoli e insieme hanno fatto una convenzione che ha sfidato i secoli per cui adesso abbiamo l'istituto di ricovero e cura di carattere scientifico San Gerardo dei Tintori grazie a questa convenzione nata 850 anni fa. di carattere di carattere di carattere di carattere di carattere di carattere